Con questo DP a TV3 di D-Progress renderai smart qualsiasi TV o monitor dotato di porta HDMI. Ciao amici benvenuti in questo nuovo video dove vedremo questo nuovissimo prodotto di D-Progress che ci permetterà di aggiornare la nostra TV rendendola smart e potendo fare la stessa cosa anche con un monitor ma prima di andare a vedere un po' più da vicino questo nuovissimo DP a TV3 solitamente supporto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna novità ovviamente commentate per farmi sapere le vostre opinioni e seguitemi su TikTok dove ci sono contenuti molto interessanti in meno di un minuto se avete bisogno di assistenza informatica gratuita o più semplicemente di un consiglio scrivetemi poi su Instagram o tramite il mio canale di supporto Telegram aiuto veramente tutti i link li trovate sotto in descrizione dove trovate anche il mio nuovissimo canale Whatsapp dove ci sono un sacco di chicche davvero interessanti ma basta chiacchiere andiamo ad unboxarlo la prima cosa che notiamo guardando la scatola è che il processore ha usato il Cortex A53 tratterei mediamente un 18-20% meno performante rispetto all'i55 del fratello DP a TV2 che integra anche un tuner digital terrestre compatibile con il nuovo standard DVB-T2 notiamo poi la dicitura 100% compatibile con le app italiane di video on demand quindi nessun problema con Netflix e neanche con NowTV che però deve essere installato tramite APK per amici vi mostrerò dopo tutta quanta la procedura troviamo poi Android TV12 e tra poco lo vedremo nel dettaglio e anche il supporto al 4K 16 GB di memoria, MMC, 9.8 come siamo abituati a trovare in questi dispositivi e 2 GB di RAM, supporto al Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0 all'interno della nostra scatola troviamo il DP a TV2 come potete vedere è molto compatto qui abbiamo lo snodo in modo tale che possa essere inserito in qualsiasi tipo di televisore anche se questa cosa cari amici sinceramente non mi fa impazzire il dispositivo supporta il protocollo C&C che ci permetterà di utilizzare il telecomando del TV per controllare anche il box DP a TV3 sempre ovviamente che il nostro TV supporti tale tecnologia vi lascio sotto in descrizione tutti quanti i vari nomi che le aziende utilizzano ad esempio LG lo chiama SimpleLink il telecomando è un 2 in 1 permette di duplicare le funzionalità principali del nostro televisore e dopo vi mostrerò pure come fare è davvero semplice permettendoci di utilizzare un solo telecomando per TV e Android TV Box davvero molto comodo potremo andare infatti ad accendere la TV da questo tasto e regolare il volume infatti nello specifico abbiamo accensione separata per decodere TV e andando ad abilitare la funzionalità C&C basterà semplicemente accendere uno o due dispositivi per accenderli entrambi una cosa che non mi piace è che è possibile regolare o il volume della televisione o il volume dell'Android TV Box ed è un po' scomodo ad esempio se andiamo ad utilizzare le cuffie Bluetooth purtroppo non possono essere regolati entrambi come avviene ad esempio per altri competitor il telecomando dove spicca il bottone per abilitare l'assistenza vocale di Google e i tasti principali per avviare i servizi streaming come Netflix, YouTube, Prime Video e Google Play anche se io al posto di Google Play avrei utilizzato Disney Plus abbiamo poi le batterie che ho già inserito per andare ad alimentarlo comodo per trovarle in dotazione è un alimentatore che è 5V 1A quindi da 5W è di tipo micro USB sinceramente avrei preferito un USB tipo C e abbiamo anche un cavetto sinceramente questo fatto che si sia andato a duplicare il tutto non è che mi entusiasmi bastava utilizzare un normale alimentatore con la porta USB A per andare a risparmiare un cavo e ad esempio si poteva andare a inserire il cavo ad Y per andare a sfruttare il supporto OTG di questo dispositivo che ci permetterà di collegare una pennetta o ad esempio anche un hard disk c'è anche il manuale che io cari amici avrei preferito fosse istituito da un bel QR code anche se devo essere sincero è davvero minimale una volta collegato al nostro televisore la prima schermata che ci comparirà è quella per accoppiare il telecomando Bluetooth per farlo premiamo contemporaneamente home e freccia sinistra come mostrato a video successivamente scegliamo la lingua e ci troveremo di fronte al menu dove dobbiamo procedere con la configurazione del box ora abbiamo due scelte di cui una veloce dove possiamo procedere alla configurazione dell'app di Google direttamente dal nostro smartphone Android in alternativa possiamo fare tutto manualmente io ho provato la configurazione veloce ed è stata davvero semplice e immediata ricordiamoci che i due dispositivi devono essere collegati alla stessa rete quindi in pochi secondi avremo configurato il nostro di progress DP a TV3 aggiungendo account Google e rete Wi-Fi quindi accettiamo i termini di servizio eventualmente anche l'accesso alla posizione l'invio dei dati per la diagnostica e la profilazione per ricevere dei risultati basati sulle nostre ricerche scegliamo poi un nome per il nostro box fatto ciò configuriamo il nostro telecomando per funzionare con il televisore scegliendo quindi il brand e confermiamo se premendo il tasto di accensione sul nostro telecomando si è spendo e se ha cambiato il volume a bordo troviamo Android 10 con patch di sicurezza di settembre non il massimo ma se proviamo a ricercare un nuovo aggiornamento ce ne verrà notificato uno sostanzioso da 900 MB che aggiorna ad Android 12 e porta le patch di sicurezza ottobre 2023 davvero tanta roba aggiornamento che nel momento in cui registro parliamo di domenica 21 gennaio è in fase di rilascio quindi se lo ricercate e non lo trovate dovete solo pazientare qualche giorno aggiornamento che apporta diverse migliorie e che quindi vi consiglio di fare quanto prima tutto quello che vedete nel video infatti si basa su questa versione del firmware sulla carta cari amici abbiamo un buon box Android compatto niente di non già visto sia ben chiaro ma i 16 GB di memoria su questi dispositivi compatti di solito è difficile trovarli ha il 4K HDR le certificazioni di Google Widevine di livello 1 quelle di Netflix purtroppo però non c'è NautiV non c'è proprio disponibile nello store infatti non vi è menzione alcuna neanche sulla confezione una cosa un po' strana ma venite con me cari amici che vi mostro come installarla basta scaricare infatti la PK il link ve lo lascio sotto in descrizione APK che ho trovato nel canale Telegram NautiV per Android TV che trovate sotto in descrizione non è un'app craccata ma è quella ufficiale e per me la burocrazia in alcuni Android TV non c'è per installarla basta comprare questo cavo a Y da pochi euro che permette di collegare una pennetta copiare il file APK appena scaricato andare nello store scaricare questo manager e dare tutte quante le autorizzazioni per l'accesso ai dati quindi scegliere come esorgente la nostra pennetta e selezionare l'APK appena scaricato dare le autorizzazioni per installare app di terze parti e il gioco è fatto dopo pochi istanti e con AutiV perfettamente funzionante applicazione che ricordiamoci non è modificata bensì ufficiale premendo sull'icona in alto a destra sull'home page possiamo accedere alle impostazioni impostazioni che sono raggiungibili anche con il tasto dedicato sul telecomando a destra dell'assistente vocale il menu che realmente ci interessa è preferenze del dispositivo poi display e audio dove troviamo la voce HDMI C&C in questo menu abilitando ciò che ci interessa potremo se presente anche sul nostro televisore ovviamente la medesima funzionalità usare il telecomando del nostro box per accendere e spegnere contemporaneamente box o tv o usare il telecomando della tv per comandare questo box di progress così facendo però ovviamente perderemo la funzionalità dell'assistente vocale una cosa che non mi piace è che amici questo menu non sia tradotto nulla che non possa essere fixato con un aggiornamento futuro altro menu importante è setup remote buttons che si trova in preferenza dispositivo smart control ci permetterà di duplicare tasto di accensione e regolazione del volume decidendo se si vuole agire su quello del box o su quello della tv purtroppo non si possono regolare entrambi non proprio il massimo ad esempio se si utilizzano cuffie bluetooth ora caratteristica fondamentale davvero molto interessante di questo dispositivo è il chrome casting dove potremmo riprodurre sul nostro televisore diventato smart i contenuti visualizzati sul nostro smartphone davvero tanta roba funzionalità che trovo molto interessante e comoda pensiamo ad esempio di dover mostrare agli amici le foto di un particolare evento ovviamente essendo un android tv è possibile installare codi direttamente al play store che possiamo configurare per vedere in streaming canali del digitale terrestre vi lascio nel live box qui sotto la guida è tagliata sul mio sito per la navigazione web collegando magari una tastiera bluetooth vi lascio un ottimo modello sotto in descrizione è possibile navigare utilizzando il browser che trovate nello store browser che si chiama tv browser internet che è anche il blocco delle pubblicità integrato davvero tanta roba un'altra applicazione che vi consiglio di installare è provare Pluto TV che è una piattaforma di streaming completamente gratuita che non necessita di nessuna registrazione che con il passare del tempo ha aggiunto sempre nuovi programmi ora ci sono anche tutte le puntate ad esempio di Top Gear utile per momenti di svago magari sotto le coperte ora cari amici vi mostro pure come si comporta VLC con un video 4K e con un nuovo formato a V1 ovviamente l'app di VLC va scaricata dallo store con il codec a V1 l'hardware non è in grado di gestirlo e si vede solo una prima immagine nessun problema invece con il video 4K con il codec H265 per ultima cosa infine vi mostro la fluidità nei vari menu che una volta avviato è abbastanza buona all'inizio invece è un po' scattoso situazione che comunque dura pochi secondi prima di tirare le somme cari amici vale la pena acquistarlo su Amazon costa 45 euro è disponibile di circa un mese secondo me è un ottimo prodotto e mi aspetto qualche promo che decurti il prezzo di un paio d'euro facendolo diventare un prodotto molto allettante sicuramente è una scelta da prendere in considerazione se si vuole rendere smart una tv o se si vuole aggiornare un prodotto lentissimo svecchiando di fatto un televisore o rendendolo smart stessa cosa anche ai miei amici si può fare con un monitor cosa che tra l'altro ho fatto io ma tiriamo le somme e veniamo al solito momento dei pro e dei contro tra i pro sicuramente 16 giga di storage che ci permetteranno di installare in tranquillità le nostre app i competitor mediamente con questi ingombri hanno solo 8 giga che finiscono davvero in fretta telecomando 2 in 1 ottima anche la funzionalità HDMI C e C buona qualità costruttiva cari amici e dotazione contro Naughty V stranamente non c'è ma vi ho mostrato come installarla avrei preferito un cavo a Y per collegare una memoria esterna invece del doppio cavo di alimentazione hardware si poteva usare il processore del DP a TV2 l'avvio non è dei più veloci e all'inizio stenta un po' ma sono sicuro che con un nuovo aggiornamento si andrà a migliorare il tutto bene cari amici per questo video è tutto mi raccomando condividetelo noi ci vediamo in un prossimo contenuto mi raccomando attivate la campanella per non perdervelo un saluto dal massimo di YouTube che va fortissimo anche su TikTok ciao 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 Grazie a tutti.